Finisce 1-1 l'ultima sfida del girone di Europa League, il Napoli passa vincendo il girone, la Real Sociedad è seconda, la Z è eliminata, un po' dispiace per la Z che alla fine forse meritava qualcosina in più Però forse era meglio perché un avversario è meno, la Real Sociedad è una squadra che ritrovarla più avanti potrebbe essere un ostacolo, la Z per quanto alla fine i risultati in una eventuale doppia sfida ci dicono che con la Real Sociedad siamo passati e con la Z no, ma comunque per valori assoluti molto meglio la Z Fatto sta che passa la Real Sociedad, passa il Napoli, la prima sfida al Diego Armando Maradona finisce con un pareggio Oggi era importante solo il risultato, oggi era importante solo vincere il girone e passarlo, quindi non voglio criticare, non voglio dare commenti troppo negativi Perché oggi veramente era importante solamente il passaggio del turno e anche la vittoria del girone Perché vincere il girone vuol dire evitare, probabilmente non so come sono andate le altre sfide, ma vuol dire evitare comunque quelle dalla Champions, le migliori Ovvero lo United, l'Ajax, le altre poi bene o male possono essere tutte abbordabili Ma ti eviti il Tottenham, ti eviti l'Arsenal, il Leverkusen, scusatemi, ti eviti tante altre squadre non proprio diciamo un po' ostiche E' meglio farsi i sedicesimi di finale un po' più tranquilli e poi agli ottavi in poi si vedrà Comunque il Napoli diciamo non gioca, sceglie di giocare una partita un po' passiva, è una scelta che è condivisibile La tattica della partita io non la discuto, io la partita fossi stato gattuso l'avrei impostata esattamente così Con questi interpreti, tranne uno, se mi seguite da un po' potete capire chi La cosa che è contesto sono stati i cambi, un cambio in particolare, potete capire quale Perché l'unica... finisco un attimo sulla tattica, commento veloce Ci sta, ci sta, perché è una squadra, la Real Sociedad, che tiene molto il pallino del gioco Però comunque non è una squadra che gioca con i cross, è una squadra che gioca un po' alla Sarri Il calcio di Alguasil è un calcio molto spagnolo ovviamente È veloce, passaggi, movimento dei calciatori e movimento della palla Quindi vanno molto soprattutto per vie centrali Mancavano due giocatori importantissimi, forse senza forse i due più importanti Che sono David Silva e Oiar Zabal Però alla fine è andata bene, è andata bene E parlo adesso dei cambi e della formazione Perché io sono d'accordissimo, questa per me è la formazione titolare Bene o male, poi sì c'è il Manolas-Maximovic, quando tornerà o Simen Quegli Usai, però bene o male, questo è il ballottaggio Meretto-Spina Però bene o male questa è la formazione titolare E fosse per me però con un cambio Al posto di Fabian Ruiz, che io è un giocatore che veramente non voglio mai più vedere Vestire questi colori, io non voglio più vedergli vestire questo colore Perché veramente è scarso Veramente scarso e irritante Fabian Ruiz Fabian Ruiz mi farà ammalare probabilmente per quanto mi fa nervosire Il gol io lo imputo a lui Soprattutto perché tu in una situazione del genere Che era il 92esimo, che stai facendo un contropiede Il contropiede è andato male, lo abbiamo gestito male come sempre Perché questa squadra di contropiedi non li sa fare L'hai gestito male nel finale Ok, tu Fabian Ruiz non puoi andare da fuori e tirare poi così Almeno sparala in curva Fai vedere e vai di rabbia Hai fatto un passaggio praticamente al portiere Loro sulla rimessa hanno segnato Tra l'altro tu sei il pollo che ti sei fatto superare Quindi Fabian Ruiz per me è l'unica insufficienza della partita Perché bene o male saranno tutti voti sul 6 Tranne appunto Fabian E i cambi appunto aver tenuto Fabian in campo Fare entrare Demme era logico Era quello che si doveva fare Ed era quello che si doveva fare dal primo minuto della partita Ma non mi devi togliere Bacaglio Co Perché Fabian era già ammonito Perché Bacaglio Co è un giocatore che fa interdizione E serviva E serviva l'interdizione di Bacaglio Co Secondo me l'avremmo vinta Senza Fabian e con Bacaglio Co Diciamo che Passo con le pagelle Dicendo solamente che Il centrocampo per me Questo è il centrocampo titolare Solo con Demme Perché ripeto Come ho detto nel video col Crotone Hai l'interditore Che è Bacaglio Co Hai sia l'interditore Ma anche il palleggiatore Il regista Quello che ti dà i ritmi Che è Demme E poi è il giocatore che ti dà l'inventiva Che ti dà il cambio di passo Che ti dà il tiro da fuori Che ti dà la giocata Che è Zielinski Il resto per me non esiste sinceramente Perché gli altri tre centrocampisti che abbiamo Non mi piace Né Elmas Né Fabian Né Lobotka Infatti sono tre che io cambierei Nel prossimo calciomercato E l'anno prossimo Ma vabbè Questi sono pensieri Da non fare ora Comunque passiamo le pagelle Ospina 6,5 Perché fa una parata Inizio partita Importante Poi alla fine Non viene mai veramente impegnato Sul gol Non ricordo particolari responsabilità Era un gol troppo vicino Quindi 6,5 E più che buono Alla coppia di centrali Do Do 6 A entrambi Fondamentalmente 6 più a entrambi Niente di speciale Però Nessun errore Nessuna sbavatura Bene così Sulle fasce Io a Di Lorenzo Do 6,5 Perché oggi l'ho visto molto in ripresa A Mario Rui invece do 6 Perché Pure lui Non l'ho visto Con qualche sbavatura Di troppo dietro Forse infatti Inizio è stato fondamentale Nel rientrare Però Alla fine Niente di grave Quindi il 6 Se lo merita tutto Baka Yoko 6 Buona fase di interdizione Avrebbe meritato Qualcosina in più Ma Baka Yoko Ripeto sempre Fa una cosa che non mi piace Tiene troppo palla Baka Yoko E Fabian Ruiz È una mediana Che non può funzionare Perché ti rallenta troppo il gioco Perché Fabian Ruiz È uno che Perde molti tempi di gioco Quando può dare la palla in avanti La dà indietro E Baka Yoko Invece è uno che Quando viene pressato E alla palla Ha il brutto vizio Di portare palla E non di scaricarla Al giocatore più vicino E qui Molto spesso Prende il fallo Per fortuna Ma spesso e volentieri Cioè no Spesso e volentieri no Ma potrebbe perdere palla E in una zona Così Così nevralgica Del campo Non è il caso Di perdere palloni Ovvero sulla mediana Tolto questo Baka Yoko Comunque sei Fabian Io gli do Cinque Non voglio essere Troppo severo Ma Veramente Non mi piace Fabian Non mi piace Non mi piace Non mi piace Veramente Ho già detto tutto Quello che dovevo dire Su Fabian Basta Zielinski Sei e mezzo Perché Tolto il gol Che è veramente un gol Da fuoriclasse Questo è uno Che come diceva Sarri Deve solo capire Di essere un fenomeno Se lo capisce Abbiamo uno dei centrocampisti Più forti del mondo Perché il suo problema È qua Non lo dico io Lo ha detto Sarri Che è uno che penso Che lo conosca più di me Di tu che mi guardi E di qualsiasi altro giornalista Idem Gattuso ovviamente Trovo un gran gol Però poi per il resto Non mi ha fatto impazzire Più partita da difesa Perché diciamo I giocatori offensivi Non si sono molto visti Perché appunto È stata una partita Più passiva Quindi do Sei e mezzo A Zinisch Che è insigne Sei e mezzo Davanti non mi ha fatto impazzire Ha fatto qualche apertura Qualche passaggio buono Sempre alla insigne Ci aspettiamo sempre molto Da lui Perché lui è il fenomeno Di questa squadra È il giocatore italiano Più forte Ribadisco che Insigne Dopo Cristiano Naldo È il giocatore più forte Che c'è in Serie A Però Insigne dietro Si è sacrificato tantissimo Insigne si è sacrificato tantissimo È stato importantissimo Quindi io gli do Sei e mezzo Lo Zano Sei Perché Sei più Perché Attacca molto bene La profondità Va molto bene Col dribbling Si mangia un gol Che poteva essere il 2-0 Però viene un po' spinto Lì è una dinamica Che non ho ben capito Si era anche preso Una punizione dal limite Molto interessante E doveva In teoria Doveva lasciare Poi la Real Sociedad In 10 Ma grazie alla grande prestazione L'arbitro da entrambe le parti Ma dopo ne parlo Questo non è successo Poi Mertens 6 Perché Mertens Ha fatto Una grande apertura E poi per il resto Non mi è tanto piaciuto Nel primo tempo Soprattutto Nel primo tempo Ho trovato Che fosse un po' troppo Poco mobile Che si facesse anticipare Un po' troppo E i subentrati Petagna 5 e mezzo Altre insufficienza Che do La do a Petagna Perché è entrato Ok ha vinto Tutti i duelli aerei Ma li ha sbagliati Poi tutti Cioè Li vincevi i duelli aerei Però poi Dava la palla Di nuovo All'Areal Sociedad O comunque Quando la gestiva Veramente Lui palla al piede È proprio pessimo Ma io non me l'aspettavo Che fosse veramente Così scarso Tecnicamente Quindi Doveva far salire La squadra Non è che l'ha fatta Salire più di tanto Quindi Cioè Ha vinto quei contrastieri Ma ripeto Li ha persi subito Quindi 5 e mezzo A Petagna Politano 6 Elmas 6 Demme 6 Diciamo Goulam 6 Sarebbe un senza voto Ma 6 A Gattuso Do 6 più Gli avrei dato 7 Se Avesse cambiato Fabian E non Baga Yoko E se avesse messo Demme dall'inizio Al posto di Fabian Perché la partita Tatticamente comunque È stata preparata Molto bene Però il voto scende Per questi due errori Che secondo me Sono stati fatali Non ne parlo spesso Però ne parlo questa volta E do anche un voto All'arbitro L'arbitro voto 0 Perché manca un rosso A Mertens Manca un rosso A un giocatore E la Real Societade Non mi ricordo chi È stato chiamato Un fuorigioco Al Napoli Che Politano Era praticamente Poi solo Andava solo davanti Al portiro Lo poteva dare Insigne a porta vuota Che non Che non esisteva È stato Un fuorigioco Che non esisteva Ci sono state E anche altre sbavature Ma non voglio perdere Molto tempo Il video già È abbastanza lungo Ma l'arbitro Veramente male 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 Da entrambe le parti Quindi ci possiamo lamentare Noi Come si lamentano loro Concludo dicendo Al Guasil Che era venuto tutto Spavaldo Vinciamo 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 Alla fine Ringrazio Fabian Che hai pareggiato Se no qui perdevi E ringrazio Rieca Che ha vinto Con la Z Se no magari Venivi anche eliminato Dal girone Al Guasil Come tecnico Mi piace veramente molto Ma come dichiarazioni Tra andate Con quella brutta uscita Su Maradona Dicendo che David Silva Era più forte Di Maradona E Questa uscita Vada a vincere Diciamo Come comunicazione Forse Hai qualcosa Da migliorare Comunque Vi invito A iscrivervi al canale A lasciare un mi piace A commentare Forza Napoli sempre Ora aspettiamo Lunedì il girone Ma testa ora La Sampdoria Al campionato E concentrazione Perché questo Napoli Può fare bene Alla prossima Alla prossima